Ancora una soddisfazione per la sezione AIA, associazione italiana arbitri di Sernia, che potrà vantare su un proprio arbitro dirigere ai campionati europei di Beach Soccer. Il fischietto isernino Johnny Matticoli sarà protagonista assoluto a Terracina dal prossimo 14 fino alla 17 settembre. Per lui ancora un prestigioso incarico internazionale. Vediamo. Si appresta a prendere parte ad una nuova avventura all'arbitro isernino Johnny Matticoli. Il fischietto appartenente alla sezione AIA di Sernia guidata dal presidente Domenico De Falco è pronto a prendere parte alla fase finale del campionato europeo di Beach Soccer che si svolgerà a Terracina dal 14 al 17 settembre presso l'arena Beach Carlo Guarnieri e la riva di Traiano sulla spiaggia di Levante. Il fischietto pentro in questo modo aggiungerà un ulteriore tassello a suo ricco mosaico con quello che rappresenta l'appuntamento culmine nel mondo del calcio su sabbia internazionale. Le Super Final e le Promotion Final le prime incoroneranno i campioni del Beach Soccer europeo mentre le seconde consediranno alla nazione vincente della division B di accedere alla serie di elite. Sarà possibile vedere come comunicato allo stesso arbitro Johnny Matticoli